Buongiorno a tutti, mi presento, io sono Matteo Carungio della OMM Agri SRL, noi siamo un'azienda che si occupa del commercio delle macchine agricole ed industriali, la nostra azienda nasce nel 1950 a San Luca di Atessa, nasce da nostro nonno Tommaso Carungio che intraprende la sua azienda costruendo carri a trazione animale, poi con nostro padre Vincenzo si trasforma nel commercio di macchine agricole con motocoltivatori, moto zappatrice e trattorini e ad oggi viene portato avanti da me, Matteo e da mio fratello Massimo Carungio. e ci occupiamo della vendita e del commercio di trattori, del noleggio di macchine industriali e di ricambi agricoli. Poi oltre alla vendita e al noleggio delle macchine industriali ci occupiamo di ricambi per l'agricoltura e assistenza autorizzata. La nostra azienda è concessionaria BCS da tantissimi anni, ormai dal 97, quindi siamo un concessionario storico del marchio, uno dei più importanti in Italia. Oltre a BCS siamo anche concessionari di Grillo, un altro marchio storico italiano che si occupa di moto zappe, motocoltivatori e trattorini rasa erba. Siamo concessionari breviglieri per quanto riguarda le attrezzature come fresatrici, trinciatrici e altre attrezzature per l'agricoltura e oltre a questo siamo altamente attrezzati per l'assistenza del cliente per quanto riguarda le manutenzioni della macchina agricola o dell'attrezzatura agricola. Grazie al nostro sito internet siamo anche altamente organizzati per la vendita di ricambi online, quindi oltre a poterci venire a trovare in sede potete anche contattarci e visionare i ricambi di cui avete bisogno sul nostro sito internet e siamo organizzati per le spedizioni in tutta Italia e anche oltre Italia. Ovviamente ringraziamo gli organizzatori e il comune di Atessa per aver creato questa evento che ci dà a noi e anche ad altre attività del posto di esporre quello che appunto commercializziamo o che produciamo e creare questi eventi è sempre positivo per il territorio e per la gente anche. Per contattarci potete usare tutti i social come Instagram, Facebook e il nostro sito che è www.ommagri.it e se volete venirci a trovare siamo in via San Luca ad Atessa. Grazie.